How's on Kreen? Tiii! Mi daresti una moneta? Sono una donna povera! No... 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 No, significa no! Chiaro! Ehi! Che ha ucciso questo innocente civile? Aspetta un attimo! Non stai pregando! Sei per forza l'assassino! Merda... Ah, devo assolutamente andarmene da qui! Donazione! Ha ha! Seguimi ora, stronzo! Ve lo dicevo che non dovevamo usare la paia per proteggere le nostre pietre! Ah, per fortuna che è solo una simulazione, vero, dottore? Esattamente! E questo sarebbe davvero il gioco dell'anno? Spero che il ridoppiaggio vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima!